musica 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 come ci dovrei tornare io di superficie ok allora sembra di stare resident evil 2 cos'è quello? lì c'è il coso eh non è un bel rumore giri allora scendiamo prima di qua c'è niente qui a terra no eh nel vero senso facciare questi vestiti facciamo così raga e questo che cazzo è? gill ma non essere così scurrile gill non ne ho un'altra? mmm non ne ho un'altra? ho dovuto tirare un colpo di pompa però va bene ci dovrebbe essere qualcosa qui sui gruppi di immondezza ci dovrebbe essere qualcosa qui sui gruppi di immondezza perfetto che io poi ragazzi l'assalto non l'ho mai usato però va bene così questo è quello che vedevamo da fuori questo è quello che vedevamo da fuori la batteria per aprire la porta molto bene finché lo possiamo usare io direi che il grimaldello non lo lasciamo allora facciamo subito questo buono perfetto un certo momento allora cerchiamo di capire se c'è qualche altra cosa raga perché lì ho visto che c'è ancora rosso quindi qualcosa ce la siamo dimenticata certo dove non ci posso tornare ovviamente non posso completare ma dove posso eventualmente tornare lo posso comunque esplorare bene che caspio apri? apri? ok c'è qualcosa qui non sembra non sembra no ho preso tutto ok molto bene posso andarmene allora e dai però apri? apri? apri la bocca ah è di là? beh vabbè giustamente di là devo finire ancora no ma ma vuoi fare una cosa che ti dico magari? grazie gil troppo buono allora questa è chiusa dall'altro lato quindi io per venire a riprendere la batteria devo fare il giro perfetto ok ok ma la batteria tra poco me la riprendo città 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 grazie grazie ok ce l'ho là ah 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 oh oh se io combino questo con questo non sono le incendiare perciò devo fare A e B per le incendiare perfetto borsello fantastico ok ok la batteria eh no me la devo riprendere ottimo qui è da dove sono venuta perfetto e andiamo di qua qui è tutto blu quindi va benissimo eh mio caro Carlos mio caro Carlos adesso ah mappa delle fogne qua era rimasto qualcosa rega non ho capito una mappa delle aree perfetto vero Jill ok altra cura quanti ne ho? pochi qui non ho nulla di utile mi dispiace fare un'altra run assistita rega ma non ho molta scelta anche perché voglio fare meglio di come ho fatto nella prima run cioè voglio essere più completa poi quando avrò finito questa seconda run farò resident evil 5 perché prima di giocarmi perché perché non vorrei giocarmi la versione base del 4 rega vorrei giocarmi direttamente il remake era qua rega? no no non capisco dov'è che ho... non capisco qui mi da un ufficio ma ci sono stata a questo ufficio io? non lo so vediamo da un po' se siamo stati in questo ufficio non lo so non me lo ricordo rega vediamo iiii da porr lo caccio guarda qui che mi dava rosso no 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 non c'ero stata qui eh eh non c'ero stata qui criviolo allora facciamo una bella cosa siccome non ho più colpi molliamola mi sposto questo e me lo metto anche nella scelta rapida esatto libero un po' l'inventario esatto che non guasta mai vedo tutto? no ah il explosivo B perfetto ok ok sicuramente adesso ragazzi potremmo utilizzare e qui me lo dovrebbe dare bianco adesso esplorato ok fantastico ah 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 ma quella da dove sono venuta eh ah c'è la scala lì sono rimbambita ma questa è dove sono venuta proprio c'è qualcosa che non mi quadra vediamo un po' a vedere allora la stanza delle guardie l'abbiamo fatta qui siamo stati dove è rimasto di andare ci deve essere qualca altra stanza vabbè questa è quella delle batterie che abbiamo appena fatto ok avevo sbagliato io ragazzi te lo perdono carlos mi senti ora gil no grazie gil stai bene? si sono viva l'ho seminato per ora bene bene il treno è pronto a partire ce ne andiamo non appena torniamo qui eeeh eeeh questo mi uccide raga che si si è è è è il treno è è il treno è che vuol Che brutto regà Eh ma me lo dici Jill muoviti Non mi farà posto ti prego Non voglio essere fatto a posto Regà il Nemesis è Highlander No non ce l'avrei mai fatto in modalità normale Conosco le mie potenzialità Come videogiocatrice Mi piace molto di più godermi la storia Regà Stasso che fa la pro play Eh che cazzo Ah Male 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 regà C'è più niente qui No Cacchio Portiamo la regà ma non la userò Salviamo qui Non credo che la userò No Ok Vai Jill Capolini di Bruxelles E devo far fuori il coso regà Il baule Il coso Sì sì Fatti sotto a mamma Sì Sconfiggi la creatura È molto relativo regà Gillo non andare a poco ti prego Eh dai Ero già morta Regà in modalità normale Ma ti posso E me ne vado Ciao Che cacchio sei Mi sono furminata da sola Regà Sono un genio Mannaggia Che so io Ah Mi fa arrosto regà Mi fa arrosto Mi fa arrosto Finiti i colpi Eeeh Pulire pioggia Aiaiaia La regà L'altra volta La pioggia Ma l'ha fatta E le munizie Assurda Non muore mai C'è ancora qualcosa Che posso prendere Credo Eh Eh va bo Caccia Ancora c'è roba Regà Ma guarda Dai Dai No, no, no. Tanto sicuro è ancora vivo Jill, tranquilla.